Mi chiamano un attivista volendo 5 stelle, guardi e entri nelle case, non percorro nessuno ancora ci ha dichiarato regimbra, lei questo lo sa, le puttonate che fanno, quelle della protezione civile, quelle della, non sto, mi scusi, io grido perché non ho voce, perfetto, quello che stanno facendo, le puttonate che stanno facendo, quelle della protezione civile, quelle dei vigili del fuoco, i carabinieri stessi, ieri mattina non ci hanno nemmeno dato soccorso, i primi soccorsi sono andati qua dopo due ore, lo sa questo? Dopo due ore? Dopo due ore, e non sapevano cosa dovevano fare, guardavano, c'era un muro quasi sdirocato, il signore ci ha detto qua che non poteva uscire da casa, guardava, grazie a Dio stavamo tutti bene, non so a casa mia perché guardo il popolo, lo faccio questa stessa, con le mani quasi ci dobbiamo tanto per poter fare questa stessa, con la vostra, stanno ridendo la Clemente, non so, ci siamo una vergogna, si fa schifo, si fa paziente, io mi sento, quanto non si è altruisto, non è che si è.